L'anno scorso cento milioni di persone hanno guardato in diretta a Miss Mondo. Sei bellissima! Mamma, non voglio. Ma a te e alle tue sorelle piaceva molto giocare a Miss Mondo. Ci piaceva anche metterci le dita nel naso. Sono in corso le prove per Miss Mondo. Sono la prima sudafricana nera che partecipa a Miss Mondo. E io la prima Miss Grenada. C'è solo un altro posto dove le partecipanti sono pesate e misurate. Lo sapete qual è? Il mercato del bestiame. Credi di poter avere le stesse libertà di un uomo, ma non puoi. Loro trasformano l'oppressione in spettacolo. Facciamo uno spettacolo nostro. Dovremmo infiltrarci nel teatro. Così questo è l'occhio della rivoluzione, eh? Visto da vicino, non è niente male. Benvenuti a Miss Mondo 1970! Giappone, non spingere! Non voglio che pensiate che io sia una specie di brutto che non si cura di quello che sente una donna. Io sento molto bene ogni donna nel profondo. Vaffanfuga! Vaffanfuga! Tutte le prime pagine del mondo. Ragazze sveglia!